Italia Nostra e Stazione Ornitologica Abruzzesi hanno commentato le recenti decisioni riguardanti il Gran Sasso e l'istituzione della zona speciale di conservazione per fauna e flora. È stata l'occasione per ripercorrere l'ITER che ha portato a questa decisione, ricordare gli studi scientifici che hanno descritto la ricchezza di biodiversità di questi luoghi che è alla base della perimetrazione. Per le due associazioni ora è importante dare una prospettiva di gestione delle aree sottoposte alle misure di conservazione, derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali, con un modello di turismo sostenibile anche l'estate e che non sia solo legato agli impianti. Chi sostiene questo vuol dire che non sa sfruttare il fascino del Gran Sasso fondato sul silenzio, su quei panorami spettacolari. Se ci vuole mandare le ruspe a distruggere il patrimonio naturalistico, queste sono idee assolutamente miopi. E in altri parchi nazionali in tutto il mondo ci sono frotte di turisti che vengono per ammirare le bellezze naturalistiche. Ecco, il vero tema è perché a Campo Imperatore a novembre, per dire, non ci siano i torpedori, i turisti giapponesi, come invece avviene in altri parchi nazionali in tutta Europa. Si spendono tantissimi soldi, tantissime risorse, appunto con impatti molto gravi su questi ambienti, quando si potrebbero spendere magari anche meno risorse, sviluppando un turismo compatibile. E non solo il turismo, anche le attività di allevamento, per esempio, che possono sfruttare i fondi comunitari destinati ai siti di interesse comunitario, che la miopia della politica regionale ha di fatto impedito, il cui arrivo è stato impedito dalla mancata approvazione dei piani di gestione dei SIC che sono nel cassetto della Regione Abruzzo dal 2013. Con la delibera approvata il 28 dicembre dalla Giunta, la Regione ha convertito in pratica il sistema montano del Gran Sasso da SIC, sito di interesse comunitaria, zona speciale di conservazione, ZSC, il massimo grado di protezione ambientale previsto dalle norme europee. Il che, per molti, renderà ancora più complicato qualsiasi tentativo di sviluppo dell'area, non solo per gli impianti sciistici, ma anche per i progetti più legati alla natura, come sentieri, rifugio e pisti per le bici per molte persone, ma non per le associazioni che continuano a proporre un turismo di diversa natura, che possa rispettare l'ambiente e attrarre sempre più persone, ma con un turismo diverso e rispettoso dell'ambiente. Continuare a puntare sugli impianti, perché di questo parliamo. A cosa erano funzionali quei limiti, quella possibilità, quella volontà di ridurre i confini delle zone SIC, oggi diventate ZSC, se non alla costruzione e al cosiddetto ammodernamento degli impianti? A questo erano destinati, no? Allora, escludendo per ora la possibilità di costruire, di puntare ancora sugli impianti, perché le invernate non ce lo consentono, non ce lo permettono più, le possibilità alternative sono tante, valorizzare le ciaspolate, fare pubblicità, fare pubblicità alle bellezze.